Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere tra arrestati nell'operazione dei carabinieri contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il GIP Carlo Colomba ha quindi confermato la misura cautelare del carcere. Intanto continuano le indagini dei militari dell'arma per accertare la provenienza della droga e per far luce sull'intero mercato messo in piedi dai tre indagati. 60 chili di droga sequestrati tra hashish, marijuana, eroine ed ecstasy. Per il comando provinciale dei carabinieri aver individuato in via Macello la casa a due piani trasformati in un vero e proprio polo logistico degli stupefacenti è particolarmente importante perché è stato tolto dal mercato un consistente quantitativo di sostanze destinate principalmente a giovani e giovanissimi. Non solo consumatori ma anche spacciatori pronti a smerciare la droga nella marca. Nei prossimi giorni i legali dei tre arrestati si riservano, dopo aver parlato con gli assistiti, di presentare eventuale ricorso al Tribunale del Riesame per chiederne la scarcerazione.